Gada realtà abruzzese specializzata nella distribuzione di dispositivi medici e nell'erogazione di servizi sanitari integrati a livello nazionale e fra le 100 aziende vincitrici del premio Women Walu Company intesa San Paolo, iniziativa istituita dalla Fondazione Marisa Belisario e dal gruppo bancario per dare visibilità alle piccole e medie imprese che investono su donne, gender equality e welfare. Selezionata tra le oltre 800 imprese candidate sia al premio in tutta Italia, Gada è stata celebrata come esempio di eccellenza per la sua cultura aziendale inclusiva, dimostrando che investire sul lavoro femminile e welfare è una strategia vincente. Una delle società del gruppo, proprio la Gada S.p.A., che è la società holding, ha l'80% di personale femminile, di cui il 70% tra le figure manageriali. Quindi date le classi manageriali e dirigenziali il 70% è costituita da donne. Il gruppo Gada è società principe sia nella distribuzione di presidi medico-ospedalieri sia nei servizi integrati, sempre con gli ospedali in tutta Italia. Quindi forniamo full service, gestiamo tutte quelle che sono le attività, la logistica piuttosto che la distribuzione dei presidi medici. Siamo leader in campo nazionale, quindi abbiamo una sede qui su Francavilla al Mare, in Abruzzo. La nostra sede legale e amministrativa è su Roma. Abbiamo due punti di magazzini a Manoppello, in provincia di Pescara e a Guidonia. Abbiamo una partnership, siamo cinque società nel gruppo, di cui Gada S.p.A. è la holding, ognuna focalizzata in un determinato tipo di attività, dalla distribuzione ai servizi integrati, all'innovazione tecnologica. Anche questo è un elemento molto importante all'interno della nostra organizzazione. un pool di tecnici, portiamo anche innovazione rispetto alle metodologie che possiamo offrire all'interno degli ospedali, di tecnologie informatiche piuttosto che l'RFID e tutto quello che è il sistema anche Biotrack. La caratteristica della nostra realtà è che rapidamente riusciamo ad adattarci ai cambiamenti che ci sono e che ci circondano. Quindi abbiamo avuto un impatto molto forte che ha comunque bilanciato anche le necessità che gli ospedali hanno. Magari c'è stato uno sbilanciamento da una parte piuttosto che da un'altra, però sicuramente siamo riusciti a essere presenti sul mercato, a portare avanti i progetti anche di crescita e ad assumere donne appunto.